Buongiorno a tutti, dal 13 al 18 a Sale Adalbenga, 52esima rassegna del Pigato, di che cosa parliamo? Parliamo del prodotto principale che è il motivo trainante di questa manifestazione, che è il vino Pigato. Dal vino Pigato ci sono logicamente anche poi tutti gli altri vini doc della Riviera Libro di Ponente e di Levante e una cosa che ci dimentichiamo sempre di parlarne, anche gli oli. Perciò a questo punto qua io penso che sicuramente la manifestazione di Sagrale è prima di tutto una manifestazione dedicata ai vini e all'olio, logicamente alle grandi cucine, al mangiare bene e a stare insieme.